Mascherine introvabili e caccia ai gel igienizzanti e disinfettanti per le superfici con i negozi specifici che non fanno altro che rifornire di continuo gli scaffali in una richiesta continua e incessante. La mucchina è il prodotto imprescindibile. Ogni singola persona ha deciso infatti di fare massicce scorte. Il timore di poter contrarre il coronavirus ha portato dunque i cittadini a fare razzia di prodotti antibatterici al punto di decidere anche per scorte necessari a tutta la famiglia. In molti casi le rivendite hanno optato in Abruzzo per un vero e proprio razionamento con la possibilità di acquistare una sola confezione. La situazione è critica nel senso che siamo stati assaltati già dal sabato ovviamente quindi abbiamo fatto il weekend in apnea. Ovviamente i prodotti richiesti sono tutti quelli igienizzanti ma come si può ben immaginare non siamo preparati diciamo così a uno stoccaggio di merce così copiosa diciamo. Adesso stanno arrivando le ultime scorte quindi vediamo che succede ma penso che a breve nel giro di un paio di giorni esauriremo tutto quindi. La gente cosa chiede? Ingenizzante, alcol, di tutto. Amuchina? Amuchina, noi abbiamo i prezzi regolari ovviamente ma purtroppo la merce è scarseggio ovviamente. Va bene allora abbiamo scaricato quel po' che rimane di Amuchina e adesso ce ne andiamo all'altro negozio di Lanciano. Buona giornata e grazie, buon lavoro. Grazie.